Buonasera, buongiorno, buon anno Sì, tutto a posto Mi dà un po' di scritta alla cara Intanto ringraziamo tutti i podisti che siete presenti oggi qui a Capostrada perché è importante ricordare Giacomo Matteini, sesto trofeo Buonasera, buongiorno 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 Non c'è tutto, anche io, meglio che da assurdi. Non c'è tutto, non c'è tutto, non c'è tutto, non c'è tutto. Non c'è tutto, non c'è tutto, non c'è tutto. Non c'è tutto, non c'è tutto. 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 Tutta la settimana. Tutta la settimana. Tutta la settimana. Non c'è tutto. Non c'è tutto. Non c'è tutto. No c'è tutto. Non c'è tutto. Tu oi. Tu vi messi fательно terrido? Grazie. Sono nato al zoppo, morirò al zoppo. Ci vieni qua, vai. Ma che cosa è che non c'è il più piano? Il 21. Sì. E' il 21. Sì. E' il 21. Grazie. Forza Riccardo. 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 Sì, se l'allungano. Grande Pasquale. Eccolo, il numero uno. Eccolo, grande Nariko. Ah, ecco lei, il nostro uomo. Non avevo visto, non avevo visto, polka mariosca. È arrivato? Eh, là giù, sì. Non fate così di f***o. Attaccate il canale. 3 o 4 avanti. Grazie. Eccolo. 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 Ecco Angela, direttamente da Udine. Ragazzi, ragazze. Direttamente da Udine. rightman. Staccate il cartellino... Oh, look god. Capurati. Eccolo! Eccolo. Provate il suo. Grazie.